Io ho proposto due parole per il suono dell'album a 360 gradi, quindi non mi sono limitato ad andare in studio e cantare, ma ho partecipato proprio alla creazione dell'album, quindi dal suono di una cassa di batteria alla scelta di lei, della chitarra, quindi sento questo album molto mio, ci sono io, è proprio Alessio Bernabè, in questo album c'è proprio la persona che sono e ci tengo molto perché ci ho messo proprio il mio cuore all'interno di questo album. Questa fase di approccio al lavoro del mio produttore, di Pausto, perché durante la registrazione eravamo molto più in simbiosi, ci trovavamo, se c'era un punto che non andava bene ce lo dicevamo, ci siamo innervusiti insieme, è stato veramente un lavoro fatto in simbiosi, con il cuore, e quindi in questo album si sente molto questa, c'è l'anima ecco, si sente molto questo calore, mentre invece ecco, magari nei miei scorsi, nei miei album passati, c'era un po' questa freddezza, anche nel mare il cantante, un lavoro figo perché ti diverti e basta, quindi vai in giro, viaggi, le donne, tutto quello che c'è, poi invece, ti ho stampato, soprattutto ti ho stampato ogni volta queste cose, però invece ti rendi conto che poi una giornata di studio è come fare un incontro di pugilato per la fine, perché ti ritrovi veramente sfinito, quindi è un lavoro che a livello mentale consuma tanta energia, è un lavoro tosto come gli altri, ecco. Il mio obiettivo un giorno è esprimermi veramente interamente per me stesso, ecco, essere un cantatore e non anche un interprete.